La prefettura di Isernia è definitivamente salva e con essa questura e carabinieri. La bellissima notizia per la stessa Isernia, ma anche per tutto il Molise, l'ha data in anteprima appena arrivato nel capoluogo Pentro il nuovo prefetto Fernando Guida, napoletano di nascita ma romano d'adozione. Fernando Guida arriva dalla prefettura di Enna in Sicilia, dove ha lasciato un ottimo ricordo. Enna però, al contrario di Isernia, non si salverà. Innanzitutto per quanto riguarda la prefettura di Isernia, anche se a titolo, cioè per il momento ufficioso, la prefettura di Isernia, contrariamente a quanto era emerso nella bozza di regolamento che tutti conoscete, dove era previsto un elenco di 23 prefetture da accorpare in Italia, a seguito della rivisitazione di questa bozza di regolamento da parte del Governo, attualmente l'indirizzo sarebbe quello di accorpare solo 7-8 prefetture in tutta Italia e tra queste 7-8 attualmente non figura più la prefettura di Isernia. Lei viene a Isernia da Enna, una provincia per tanti versi simili, interna, piccola, disagiata. Quali sono le sue esperienze che porterà qui a Isernia? Sicuramente il metodo, perché in provincia di Enna ho creduto molto nella partecipazione e nelle sinergie da creare sia tra istituzioni che con la società civile, con tutte le sue forme associative sul territorio, che sono spesso significative. Per esempio lì a Enna erano particolarmente attivi i club service, come Rotary, Lions, Kivanis. Ecco, io ascolterò tutti, la mia porta è sempre aperta, e conoscendo le esigenze del territorio sono convinto che creando le opportune sinergie si possano risolvere anche in un momento di crisi economica quale è attualmente quello vissuto dal nostro paese in generale e dalla provincia di Isernia in particolare. Prefetto, lei a Isernia c'era mai venuto? E se no perché? A essere sinceri, soltanto una volta, ma in provincia di Isernia ero venuto a Staffoli perché lì c'è un oasi del WWF.